Ombra di Edgar Allan Poe Voi che mi leggete siete ancora tra i viventi, ma io che scrivo da molto, da molto tempo, sarò partito per la regione delle ombre, poiché in verità succederanno di bene strane cose, molti segreti saranno rivelati, molti secoli passeranno prima che queste parole siano vedute dagli uomini e quando le avranno vedute, gli uni non le crederanno, gli altri dubiteranno e ben pochi troveranno materia di meditazione nei caratteri che su queste tavolette va tracciando con uno stile di ferro. L'anno era stato un anno di terrore, pieno di sentimenti più intensi del terrore per i quali non c'è un nome sulla terra, poiché c'erano stati molti prodigi, molti segni e da tutte le parti sulla terra e sul mare. Le nere ali della peste si erano largamente spiegate, ma quelli che erano sapienti nelle stelle non ignoravano che i cieli avevano un aspetto di disventura e per me, tra gli altri, il greco Oinos era evidente che stavamo al ricorso di quel 794esimo anno in cui all'entrata in ariete il pianeta Giove si trova in congiunzione con il rosso anello del terribile Saturno. Lo spirito particolare dei cieli, se non mi inganno di molto, manifestava la sua potenza non soltanto sul globo fisico della terra, ma bene anche sulle anime, sui pensieri, sulle meditazioni dell'umanità. Una notte eravamo in sette, in fondo a un nobile palazzo in una triste città chiamata Tolemaide, seduto intorno ad alcune anfore di un vino rosso di Chio e la nostra camera non aveva altra entrata che un'alta porta di bronzo e la porta era stata lavorata dall'artista Corinno ed era ad una rara perfezione e si chiudeva per di dentro. Nel pari dei panneggiamenti neri proteggendo questa camera melanconica ci risparmiavano l'aspetto della luna, delle stelle lugubri e delle vie spopolate. Ma il presentimento, il ricordo del flagello non si erano potuti così facilmente escludere. C'erano intorno, presso a noi, delle cose di cui non posso rendere completamente ragione, delle cose materiali e spirituali, una pesantezza nell'atmosfera, una sensazione di soffocamento, d'angoscia e soprattutto quel terribile modo di esistenza che subiscono le persone nervose. Quando i sensi sono crudelmente viventi e svegli e le facoltà dello spirito assopite, intristite. Un peso mortale ci schiacciava, si stendeva sulle nostre membra, sul mobilio della sala, sulle coppe in cui si beveva e tutte le cose parevano oppresse, prostrate in quell'abbattimento. Tutto eccetto le fiamme delle sette lampade di ferro che rischiaravano la nostra orgia. Allungandosi in minuti i filamenti di luce rimanevano tutte così e bruciavano pallide e immobili. E nella rotonda tavola d'ebano, attorno cui sedevamo e che il loro chiarore trasformava in specchio. Ogni convitato contemplava il pallore della sua propria faccia e il lampo inquieto degli occhi tristi dei suoi compagni. Non di meno si mandavano delle risate ed eravamo allegri a nostro modo, un modo isterico, e si cantavano le canzoni d'anacreonte, che non son che follia. E si beveva molto, quantunque la porpora del vino ci rammentasse la porpora del sangue, perché c'era nella camera un ottavo personaggio, il giovane Zoilo. Morto, lungo e disteso e seppellito, egli era là, il genio e il demone della scena. Ahimè, non aveva parte lui al nostro divertimento, salvo che la sua faccia, sconvolta dal male e gli occhi, dove la morte non aveva spento che, a mezzo il fuoco della peste, sembrava prendere tanto interessante alla nostra gioia quanto possono prendere i morti alla gioia di quelli che devono morire. Ma benché io, Oinos, mi sentissi addosso, fissi su di me gli occhi del defunto, non di meno mi sforzai di non comprendere l'amarezza della loro espressione. E, figgendo ostinatamente lo sguardo, nella profondità dello specchio d'ebano, cantai con voce alta e sonora le canzoni del poeta di Teo. Ma grado a grado il mio canto cessò, e gli echi, correndo lontano tra le nere drapperie della camera, divennero fievoli, indistinti e svarinoro. Ed ecco che dal fondo di quelle drapperie nere, dove andava a morire il suono della canzone, sardense un'ombra fosca, indefinita, un'ombra simile a quella di un corpo di un uomo, quando la luna è bassa nel cielo. Ma non era l'ombra né di un uomo, né di un dio, né di alcun altro essere comune. E quasi rabbrividendo, oscillando per un istante tra le drapperie, rimase infine visibile e dritta sulla superficie della porta di bronzo. Ma l'ombra era vaga, senza forma, indefinita. Non era l'ombra né di un uomo, né di un dio, né di un dio di Grecia, né di un dio di Caldea, né d'alcun altro dio egiziano. E l'ombra riposava sulla gran porta di bronzo e sulla cornice scolpita, e non si muoveva, e non pronunciava una parola. Ma si fissava sempre più, e restò immobile. E la porta sulla quale l'ombra riposava era, se ben mi ricordo, proprio di contro ai piedi del morto Zoilo. Ma noi, i sette compagni, avendo veduto l'ombra mentre usciva dalle drapperie, non osavamo contemplarla fissamente, ma abbassavamo gli occhi, figgendoli sempre nelle profondità dello specchio d'ebano. E finalmente io, Oinos, ardì pronunziare alcune parole a bassa voce, e domandai all'ombra il suo nome e la sua dimora. E l'ombra rispose. Io sono ombra, e la mia dimora è vicina alle catacombe di Tolemaide, e presso quelle cupe lande infernali dove scorrono le acque impure di Caronte. E allora, tutti e sette, ci rizzammo inorriditi sui nostri seggi, restammo così, tremanti, terrorizzati, convulsi, perché il timbro della voce dell'ombra non era quello di un solo individuo, ma di una moltitudine d'esseri, e quella voce, variando le sue inflessioni di sillaba in sillaba, veniva a caderci confusamente negli orecchi, imitando gli accenti noti e familiari di mille e mille amici scomparsi.